Credo che non ci sia una materia più complicata del diritto delle successioni. È una materia molto specialistica, non per tuttologi. Partiamo dal presupposto che in questi anni ho visto tantissime storie di fratelli coltelli, che per un pezzetto di terra si sono fatti una guerra infinita. Partiamo anche dal presupposto che però molti testamenti sono fatti male, sono palesemente ingiusti e violativi della quota legittima. Pertanto vanno impugnati. Sapete che un testamento può essere scritto anche su un pezzo di stoffa? Su un pezzo di legno? Su un muro? L'importante è però che contenga i requisiti essenziali. Innanzitutto scritto di pugno dal testatore e che contenga appunto la indicazione precisa dei beneficiari e i beni che intende appunto inserire in queste sue ultime volontà. Il problema si pone quando appunto si viola una quota legittima a danno di un figlio, a vantaggio di altri. Quindi molte volte è proprio chi redige il testamento, che anche in buona fede, può creare delle guerre infinite, perché si tratta di ultime volontà palesemente ingiuste. La legge non ammette d'eroghe da questo punto di vista. E soprattutto chi redige un testamento che magari dimentica di aver intestato degli immobili, aver fatto delle donazioni particolari a uno solo o dei figli, a danno degli altri. Quindi è chiaro che spesso e volentieri sì, c'è la cattiveria dei figli, ma a volte c'è anche un po' la superficialità, per non dire altro, dei genitori. Ecco perché bisogna sempre rivolgersi a un notaio, a un avvocato specialista in materia, non un avvocato qualsiasi, per evitare tragedie in famiglia, perché non c'è nulla di più triste che vedere fratelli che si scannano per eredità. Per tutte le altre informazioni iscrivetevi al canale di YouTube Studio Regale Cassani. Alla prossima!